Il cavolfiore gratinato è un contorno vegetariano davvero sfizioso. La preparazione è molto semplice, basta tagliare il cavolfiore a fette, distribuirci sopra la gratinatura e infornare. Non essendoci precottura, la cottura in forno non è propriamente veloce, però è anche vero che una volta infornato il cavolfiore si cucina da solo e quindi tu puoi tranquillamente far altro. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!